Quando azzeccò quel 13 da un miliardo di lire nel lontano 1981 Martino Scialpi era trentenne. Nel 2010, dall'ora di anni ne sono passati ben 29, il commerciante ambulante Tarantino, baciato dalla fortuna, a quei soldi non li ha ancora visti. Una vincita ma incassata perché la titolare della ricevitoria perse la matrice della schedina e cominciò un calvario senza fine a base di carte bollate che hanno tirato in ballo anche il CONI. Ora, per fare luce sulla vicenda, è intervenuta la Procura di Potenza che ha aperto un fascicolo di indagine sui magistrati di Taranto che in 20 anni si sono occupati della vicenda. Sono stanco di una giustizia che non ha ancora fermato, che ha commesso o dichiarato il falso per impedirmi di incassare una vincita sacrosanta, ribadito Scialpi, con poteri forti che hanno coperto le responsabilità del CONI. Nel 1983 mi accusarono di aver cercato di truffare lo Stato, ma una perizia dimostrò che la schedina era genuina, ha aggiunto il commerciante ambulante Tarantino. Quella vincita mi spetta, ne ho diritto e chiedo alla magistratura di fare finalmente giustizia.